L'articolo 2, il famoso articolo 2 con le lezioni diretta. Quello che ci è stato proposto è una vera e propria patacca, perché non si può scrivere in conformità alla scelta al comma 5 e scrivere al comma 2 dell'articolo 2 che i consigli eleggono. Va bene che si può scindere l'atomo, ma il consiglio regionale ha l'obbligo o non ha l'obbligo di poter confermare le scelte dei cittadini o ha l'obbligo e allora non si tratta più di elezione, ma è una ratifica, allora scriviamo ratifica al comma 2, o non ha l'obbligo e allora non è il popolo che sceglie, ma il consiglio regionale.